Oh interregio, interregio, più ti guardo, più mi scoraggio. Mi diceva un vecchio saggio, il campionato finisce a maggio. Ma io ti cerco, ti cerco, ma la gente non capisce, e quando parlo si stupisce. Per questo amore che non sboccia, ed io ci sbatto la capoccia. Oh interregio village, quanto mi piaci, ti hanno fatto conoscere, ti hanno fatto avvicinare. Ma forse era solo un maraggio, e se questo sole mi acciega con un raggio, è meglio non pensarci, perché così mi sento a disagio. Ma è inutile piangersi addosso, non è giusto lamentarci, tanto ormai comune e provincia hanno deciso di abbandonarci. Ad inizio stagione si era tutti insieme a festeggiare, mentre adesso stanno lì a gieggioneggiare. Ma sapete che vi dico, andate a cagare. Oggi per me non è un giorno di gioia, e con questi occhi lucidi, di ghiaccio, mi domando, ma interregio village, forse sono io che non ti piaccio. Ma cosa sta facendo? Che fa qua? Che fa qua? Io sono il presidente della regina. Ma poi ti disse, quello presidente della repubblica, quando si può entrare? Che fa Armeggia? Forse un giro. Armeggia, quello Armeggia. Forse un giro, una passeggiata. Un giro, una passeggiata. Senta, la vuole una giacca, la vuole una giacca. Ma che fa? Mi vuole corrompere con una giacca, gentilmente, per quanto... No, ne vuole cinque? Non voglio nessuna giacca. Un gelè? Ma nemmeno. Una dichierta? Nemmeno. Un ghiaccone? Non mi interessano i capi d'abbigliamento. Una tratta griglia, arancione. Ma ne griglia e ne gialla, non mi interessa. Gentilmente, allora, per esempio, passiati... Gentilmente, gentilmente. Non la voglio vedere più qua, va bene? Via, forse. Gli dà la pannina oppure gli dà il calamito, vi dà una passeggiata. Vado alla sorgente. Ah, pure alla sorgente, forse. Vado alla sorgente, vado alla sorgente, vado alla sorgente. Presidente! Che c'è la ragazza, non mi chiede da solo? Ciao! Mi devi rigettare! Mi devi rigettare, Gianni, che dici? Non c'è la propria mancetta come i figlioli. Non c'è il cancello dell'Interregio Village, Gianni, che dici? Ciao, ciao! Buon pomeriggio! Che c'è? Buon pomeriggio! Come che c'è? Come che c'è? E allora non parliamo abbaganti? Oggi? E quando, aerei? Scendano qua. Non c'era forse oggi? No, no, c'era due minuti fa, ci siamo visti che aveva venuto a scendere questo muro. Scendo? Scenda, scenda subito, immediatamente. Forse. Non c'è, diciamo... No, non c'è niente, le sto dicendo che deve scendere qua l'Interregio Village non può entrare. Interregio Village... Assolutamente. Non c'è. Capisco i sogni e i suoi desideri, ma forza. Forza, aiuta la passione. Ma questo... Spinge? No. E caccia di cuore? Ma ne caccia di cuore siamo fuori l'aria, forza. Vuoi dire che devi guardare qua? Via, via. A passeggio, forza. A passeggio. Eh, su mio cavo guarda. Forza. Guarda tu. Non c'è niente in questa città. Mi hanno cacchiato e umiliato. E io me ne vado amareggiato e scoraggiato. Ma non me in ginocchio. Da domani una nuova battaglia ricomincia. Sapete che vi dico? Facete a bilancio con voi, i comuni e la provincia.